Sono venuto oggi a presentare un progetto che stiamo realizzando a Parma che riguarda la costruzione di un piccolo padiglione in autocostruzione, costruito con l'aiuto degli studenti e delle imprese e le aziende che ci hanno dato materiali e i tecnici che ci hanno aiutato ad assemblarli. Sarà inaugurato il 26 di novembre prossimo e quindi saremo molto felici che tutti quanti possano venire a vedere questo progetto. È stato molto utile in questo percorso la formazione degli ultimi anni che ho avuto, da Casa Clima soprattutto, l'edificio, infatti, questo piccolo padiglione sarà anche certificato Casa Clima che da più di un anno conosce il progetto e ci sta seguendo nelle varie fasi sia progettuali che esecutive. Perché comunque l'autocostruzione è un tema cruciale in questo periodo, è poco normato in Italia, pochissimo, in Europa e nel mondo molto di più.